L'ordinaria amministrazione non può ricostruire pinnacoli vendenti senza il vostro aiuto. Beh sì, abbiamo 8 triliardi di lingotti, ma gli elicotteri privati non si comprano da soli. Unitevi alla festa, aiutate il nostro team di marketing a spargere la voce o votate il design per la nuova pinnacoli. E se volete regalarci degli altri lingotti, abbiamo una pollizza fatta apposta per voi, davvero, e non potete farci nulla. Grazie a tutti. Grazie a tutti.